Oggi è il 18 giugno. 1836, il generale La Marmora propone l'istituzione dei bersaglieri. 1815, Napoleone Bonaparte sconfitto a Waterloo. 1155, Federico Barbarossa incoronato imperatore. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. 60 anni fa a Roma muore il giornalista, scrittore e poeta Vincenzo Cardarelli. 18 giugno 1100, il generale La Marmora propone l'istituzione dei bersaglieri. La Marmora propone l'istituzione dei bersaglieri. La Marmora propone l'istituzione dei bagnati per Zerohesigli ambiti e buoni�� La Marmora delle cosmetics eseglie di exibliato e per vendere incontro. La Marmora di transferred tutti la raggiungare delleψi di Contrano nascert Porsche. Grazie a tutti.